Buonasera amici di non me l'avevi detto, questa sera siamo qui ospiti di Pino di Parco Europa Rubiana. Visto che il tema della serata è rock melodico, ovviamente non potevamo che scegliere delle vere e proprie leggende del rock italiano. Quindi prima di tutto vi presento il padrone di casa, quindi Pino, proprietario di Parco Europa Rubiana. Ciao a tutti, buonasera. Dopodiché di fianco a me c'è Franco Bassista delle Ombre, gruppo storico. Buonasera a tutti. Un altro Pino, sempre leggenda, batterista dei The Trip. E poi invece Gino, chitarrista della strana società, sempre... Non ve l'avevo detto, non ve l'avevo detto. Come prima domanda non potevo non chiedere come mai hanno iniziato a suonare, a far parte di un gruppo musicale, quindi che cosa vi ha colpito della musica? E lo chiedo a Pino, batterista dei The Trip. Ok. Io ho iniziato così a avere la spinta verso la musica e in particolar modo per la batteria, quando frequentavo l'oratorio dei Salesiani e c'era la banda che suonava. E quando il tamburino faceva quelle rullate, mi prendeva un qualcosa nel cuore e ho detto ci siamo, io dovrò da grande suonare la batteria. E così ho fatto. Avevo 19 anni quando ho iniziato. E sono approdato poi, dopo tanta gavetta, in un gruppo appunto denominato Trip, che qui si vede il nostro 33 giri, il nostro cavallo di battaglia. Il Trip è un gruppo originariamente tutto inglese. Addirittura nei Trip militava un certo Richie Blackmore dei Deep Purple con i Trip. Lui andò via e formò i Deep Purple. E noi continuammo a suonare qui in Italia facendo della musica rock. E facevamo molto cover, molti pezzi come cover. Poi piano piano abbiamo deciso di comporre, e abbiamo tirato fuori appunto questo caronte. E da lì è nata la musica prog. Oggi la chiamano prog, progressiva. Adesso passo a Franco, bassista delle ombre. Allora, io mi sono avvicinato alla musica nel 63, ascoltando il primo 45 giro degli Shadows a Pasch. Da quel momento lì ho detto, noi dobbiamo suonare. Ci siamo radunati in tre amici, due amici sopra. Mi mancava ancora il batterista allora. E abbiamo incominciato con delle chitarre, le chiamiamo acustiche, per dire chitarre. Il basso non esisteva per noi. Poi è arrivato il batterista, abbiamo cominciato a comprarci gli strumenti e cominciato a suonare nei locali di Torino. E adesso invece lascio la parola a Gino, chitarrista della Strana Società. Grazie. Ma io non me ne sono neanche accorto quando ho iniziato a suonare, perché da piccolo c'era, intanto tutta la famiglia di mio padre suonavano, chi il mandolino, chi il violino. Forse è questo quello che mi ha trasmesso un po'. Così, crescendo, ho preso in mano la chitarra, mio padre mi ha insegnato i primi accordi, poi ho fatto un po' di scuola e via dicendo. Poi ho incontrato i primi amici che sono tuttora in contatto con loro, che abbiamo formato un gruppo negli anni 60 con il nome Apash, preso sempre da un titolo dei brani degli Shedas, dove noi suonavamo solo Shedas e forse qualcosa di per il buon gusto. Ma questo è tutto frutto delle cantine, prove e prove in cantina, col freddo, col caldo, con tutto quanto. Comunque è stata un'avventura meravigliosa. Passo la parola al padrone di casa, Pino. Sì, diciamo che noi siamo un po' meno famosi dei ragazzi qui presenti. Noi abbiamo iniziato nei primissimi anni 80, un po' più recente. Io in particolar modo ho iniziato a suonare la chitarra, non il basso, anche se io sono un bassista, ascoltando i Pink Floyd. Per me era una cosa eccezionale, proprio alle primissime armi, comprarsi una chitarra solo per imitare la batteria. Allora abbiamo iniziato praticamente con il batterista che si è preso, non so, non mi vergogno a dirlo, all'epoca era così, per suonare la batteria appunto, come si dice, si era formato con dei fusti di detersivi. perché all'epoca i fusti erano in latta e quindi da lì lui si faceva il rullante, il tom, i piatti lasciamo perdere perché erano esatti, con i coperchi grandi delle pentole, sì, sì, infatti, è realtà comunque. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.